ragazzi sono sempre io. Buongiorno, lo sappiamo che sei te, ma è normale con questa nastrina come frondino, mulino bianco qua, è normale che sei tu. I nostri affari, i nostri affari. I vostri affari? Vallea, avete quotato la Vallea in borsa, che è successo? Va bene, non la posso mettere la Vallea qua dentro no no ride, non darci questo dispiacere, dai è appena iniziato il 2024 senza Vallea, come non va chi bene? e vedi di andare bene. Il prezzemolo, ecco questa gamba di tavolo sempre per mettere i peperoncini mette la nostra più piccola. Ciao Laura, vedi che saluta Laura. Il sale, il limone, non è il prezzemolo, hai visto? No, bisogna prendere quella cosa là, ma come è che devi depurare? Come mai stai facendo tutto questo limone? Roppi i panettoni con la Vallea. I crostini? Ma devi fare la zuppa di pesce, che è? La bambolina? Sì, esattamente sì. Eh che fame, e quando mai non hai fame? Scusa. Ma quella è la Vallea, la Vallea fa venire fame, capito? Scusa. Scusa, ecco, l'attaccante sardo, questa è la stella promettente del calcio, Scusa. Eh, quando ho un limone. Il topo? Perché? Che è successo? Ah, perché è entrato un topo in casa mia? Mannaggia, fa attenzione che quella all'improvviso esce nei tiretti, fa attenzione. Eh, come santa Laura? Ah, hai una santa in casa? Complimenti, ma c'è il santino, la fotografia? C'è la forza di un uomo. C'è la forza di un uomo. Quella ride. Vai ridere. Annaggia. Lauri, c'è la forza di un uomo. Vai Laura, premi tutto. Ha detto, ride. Piattino e il cucchiaro. Il cucchiaro a Rita ci vuole. Non uno cucchiaro a mamma. Cucchiaro. Ma tu quando non devi usare le R, le usi. Cucchiaro. E poi quando devi usare le R, non le usi. E noi perciò li togliamo anche bene. A Laura, prendi i crostini per favore a Rita. Rita, guarda, Laura ora ti prende i crostini. Guarda, guarda. Guarda. Guarda, sei si tu là sotto. Sì, è il topo là sotto. Non vedete una cosa là sotto. Cosa vedi, Rita? Non c'è mai passato, non ti direi che la roba si sopra la sua. Che è successo? No, no, quindi... Beh, no, i topi... C'è un buco. C'è un buco. C'è un buco. E' il buco nero dove viene assorbita la vallea, guarda. È il centro gravitazionale della vallea. E' il buco. E' il buco. No, ma quello è il buco della vallea. I topi mettono là la vallea. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.